Più che i singoli sette gol rifilati ad una Cavese, ultima in classifica è l'immagine della squadra che alza al cielo il trofeo della vittoria, quella da commentare. Lo scatto che fotografa il capitano Marino Defendi insieme ad un collettivo, capace di conquistare la promozione con quattro giornate di anticipo, in un momento pieno di commozione e soddisfazione per un sogno immaginato e raggiunto. Allo Stadio Liberati, la Ternana delle Meraviglie, al termine della partita con la Cavese, è stata premiata da Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ed Emanuele Paolucci, segretario generale della Lega Pro, come prima squadra che ha staccato il biglietto per la Serie B. Al tecnico Cristiano Lucarelli, alla sua squadra, sono state consegnate le medaglie Campionato Serie C, Girone C, come prima classificata 2020-2021 e la Coppa Campionato Serie C, prima classificata Girone C, 2020-2021. A loro, al presidente Bandecchia, al vicepresidente Tagliavento, sono andati i complimenti di Ghirelli per lo straordinario lavoro fatto e per aver saputo governare la stagione con determinazione, competenza e passione. Quanto al calcio giocato nel recupero della ventottesima giornata, il risultato finale di 7-2 arriva con, in casa Rossoverde, una doppietta a testa per vantaggiato e per alta i golle di Laverone, Swager e Partipilo. La Cavese prova ad accorciare, con scoppe ricchi, ma la distanza è insanabile. Con una squadra rimaneggiata in nove dei suoi undici componenti rispetto alla partita con Lavellino, la Ternana regola già i conti nel primo tempo, chiuso 3-0, con le due reti di vantaggiato al diciassettesimo e al ventiquattresimo, quindi per alta al ventinovesimo. Nella ripresa Laverone, al quarto minuto, sigla il 4-0, la Cavese prova a reagire con scoppe al settimo minuto che viola la porta di Vitali, ma Swager prima e per alta poi confermano che ormai è una goleada senza freni. Ricchi regala il secondo gol della consolazione alla Cavese al trentunesimo, ribattuto al quarantaquattresimo da Partipilo che chiude a sette le reti del trionfo per i ragazzi di Mister Lucarelli. Festa in campo, con il trofeo in mano seppur le norme anti-covid non consentono più di tanto, è una prosecuzione di quello che in città era già scattato nella penultima vittoria sabato 3 aprile, quando era arrivata la matematica certezza di tornare dopo tre anni in Serie B.